Luna questa sera fa i capricci, non vuole mangiare e mamma Belenne è disperata perché sennò non dorme. Aspetta, 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 aspetta. Ah, 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 no. Ah, 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 no. Mi ha chiesto da pocahontas. Mamma! Non vuole mangiare per colpa della mamma. Com'è andato al canto, signor Rodriguez? Quasi. Quasi, ce l'abbiamo fatta? Adesso siamo confuse. Ragazzi, questa bambina non vuole mangiare. E poi non mi dorme. Io sono stanca. Dai Luna, mangia, sei tanto bella, non fare i capricci. No. Oh. Grazie a tutti.